Dalla regia mobile di Sorrento incontro alla regia Roberto Giannessi siamo qui per raccontarvi cosa è successo di sera a Parco Ibsen durante lo spettacolo Bus Stop del 5 e Quarte Trio lanciamo il servizio Siamo nel Parco Ibsen, è una struttura che abbiamo restituito alla città un progetto che nasce dall'assessorato agli eventi in piena sinergia con il dirigente Gianmarino abbiamo recuperato quest'area chiusa da più di 4 anni abbiamo rimesso il palco, l'anfiteatro soprattutto messo in sicurezza e restituito alla città Stasera inauguriamo di nuovo l'anfiteatro con un bellissimo spettacolo il 5 quarter trio che animerà quest'area ridando vita alla struttura un spettacolo unico nel proprio genere come diciamo di contaminazioni fra musica, attività circensi, acrobati e tante altre una serata di grandi emozioni che regaliamo alla città, ai turisti ma soprattutto ai bambini quindi Sorrento incontra la rassegna che sta accompagnando tutta l'estate che continuerà fino al prossimo Natale Grazie a tutti Grazie a tutti